Eccoci in onda, ben ritrovati i telespettatori per questo nuovo appuntamento. Di buongiorno dottore, allora con l'ausilio della regia andiamo subito a vedere i numeri di telefono per consentire a voi telespettatori di interagire nel corso di questa trasmissione. 011 06 00 774, numero per le chiamate, 348 80 42 54 per sms e whatsapp. E andiamo anche a presentare l'ospite al mio fianco, la dottoressa Giorgia Carpegna. Buongiorno. Buongiorno, grazie di avermi qui con voi ancora oggi. Odontoiatra che appunto soddisfarà le vostre esigenze, le vostre curiosità su un problema che insomma, non dico quotidiano però, insomma i denti ogni tanto ci fanno penare e dunque insomma occorre anche l'ausilio di un professionista per capire cosa succede alla nostra bocca. Certo, fondamentale. Allora, dottoressa Carpegna, nel frattempo, nell'attesa chiaramente dei nostri telespettatori parliamo di impianti, impianti dentali. In cosa consistono? Allora, gli impianti dentali sono una tecnica che si usa quotidianamente per andare a sostituire un dente laddove questo sia stato estratto o sia cariato a tal punto da non poter essere più ricostruito. Si tratta di una vite in titanio che come ci mostra la regia dall'immagine viene posizionata sotto la gengiva all'interno dell'osso e sopra questa vite viene avvitata la capsula, la corona della stessa forma e colore degli altri denti. Gli impianti possono essere singoli come vediamo nell'immagine e quindi andare a sostituire un dente solamente oppure possono essere utilizzati per andare a formare dei ponti, quindi sostituire più denti insieme, come vediamo dall'immagine in questo caso un ponte che va a sostituire tre elementi fino ad arrivare addirittura a sostituire tutta un'intera arcata, sia essa quella superiore o quella inferiore e in questi casi si parla di un circolare, quindi un'intera arcata sostenuta da 4 o 6 impianti in base alla necessità del paziente, alla quantità d'osso, queste sono poi cose che vengono valutate clinicamente durante la visita. Quindi diciamo che 4 impianti, 4 viti basterebbero per avere un arcato o comunque una parte superiore o inferiore che sia a questo? Assolutamente, una volta, ovviamente le tecniche sono avanzate nel tempo, una volta si diceva che un impianto dovesse corrispondere a una radice o comunque a un dente, ad oggi è stato dimostrato che in realtà 4 impianti distanziati tra di loro sono più che sufficienti per andare a sostituire tra i 6, i 14 denti che corrispondono a un'arcata esattamente, ci sono anche alcune situazioni in cui ne sono sufficienti solo due, specialmente nell'arcata inferiore. Ecco, mi chiedevo, la differenza tra il 4 e il 6, il 6 ha una tenuta maggiore? Dipende dalla qualità e dalla quantità d'osso del paziente, è una scelta poi clinica in realtà quella che viene effettuata, a livello di praticità e di efficienza masticatoria non abbiamo differenze nel tempo, tra il 4 e il 6 o come vediamo in questo caso la tecnica con due impianti. Queste due addirittura, i due lì davanti si mettono più o meno? Vengono posizionati indicativamente a livello dei canini, nella zona centrale e sostengono tutta quanta l'arcata. In questo caso generalmente viene ancorata una protesi eventualmente invece che dei denti senza la visione estetica della parte rosa della gengiva e possono anche essere utilizzati per ancorare, come dicevo, delle protesi una volta mobili che poi vengono fissate. Mi chiedevo, c'è una fase preparatoria per poi procedere a un impianto? Le faccio un esempio, noi qui ogni tanto abbiamo un chirurgo plastico, quindi quando uno entra nell'ottica di fare un lavoro particolare, un lavorone magari, insomma ci pensa, ci riflette. Qui come funziona il paziente ci riflette tanto o comunque entrano già tutti nell'ottica di svolgere il lavoro e di mettere il tipo di impianto che poi andrà messo? Allora, la tipologia di impianto ovviamente viene scelta dal professionista. Quello che riguarda le tempistiche per l'esecuzione dell'intervento dal punto di vista clinico sono interventi comunque che sono veloci, in quanto poi posizionare l'impianto richiede generalmente dall'anestesia alla fine dell'intervento una mezz'oretta in mano a un odontoiatra esperto e si può arrivare all'oretta, all'oretta e mezza per l'intervento in cui vengono posizionati i quattro impianti. Per quanto riguarda in realtà le tempistiche della preparazione da parte del paziente, ovviamente ogni qualvolta che uno deve sottoporsi a un intervento è giusto che il paziente ponga tutte le domande e i dubbi al professionista da cui andrà a rivolgersi prima di eseguire l'intervento. Dopodiché la preparazione clinica prevede tendenzialmente lo stato di salute della bocca, quindi andare a fare un'igiene anche laddove si debbano fare delle estrazioni perché è importante che le gengive siano in salute per avere poi una migliore guarigione e prevenire tutte quelle che possono essere infiammazioni o infezioni post-operatorie. Per quanto riguarda invece eventuali farmaci, vengono poi consigliati dal professionista in base al tipo di intervento che viene eseguito. Ci sono solo alcune situazioni in cui è necessario fare una profilassi perché magari il paziente ha delle patologie già di suo e quindi necessita una preparazione farmacologica. Diciamo in primis la gengiva deve essere in salute per fare una buona riuscita e comunque per fare una... Sì, per avere una buona guarigione dei tessuti intorno all'impianto perché comunque come si ammala la gengiva, quella classica fiorrea o la parodontite intorno al dente, allo stesso modo può ammalarsi la gengiva intorno all'impianto. Quindi poi è fondamentale mantenere la salute delle gengive anche a seguito dell'intervento. Dottoressa, abbiamo visto degli impianti a 4-6 viti, diciamo, per i nostri spettatori. Mi chiedevo, c'è la possibilità invece anche se si perde un elemento dentale di poter effettuare un impianto? Certo. Se invece non si procede, cioè cosa succede nel momento in cui si perde un impianto? Si perde la sede? Nel momento in cui un dente viene estratto, quello che va a succedere a livello osseo è una perdita d'osso in quanto abbiamo uno strato di osso alveolare, quello che circonda la radice del dente, che permane in crescita e trofico finché ha uno stimolo al carico. Cosa vuol dire? Finché ci mastichiamo sopra. Nel momento in cui il dente viene a mancare non abbiamo più questa forza di masticazione, questa pressione sull'osso e di conseguenza si ritira. Quindi abbiamo una perdita dell'osso stesso con un conseguente anche abbassamento del livello della gengiva, a volte anche sui denti accanto. Un'altra cosa che può succedere è che i denti accanto o sopra o sotto possano spostarsi. Quindi generalmente nell'arcata inferiore i denti si inclinano andando a occupare lo spazio che si è creato tra di loro, mentre i denti dell'arcata superiore si abbassano ricercando di nuovo il contatto e quindi magari poi sembreranno più lunghi rispetto agli altri denti. Quindi nel momento in cui dovesse essere perso un dente, un elemento, è importante andare a ristabilire in realtà, a riempire quello spazio proprio per evitare che i denti accanto perdano la loro posizione. Mi stavo riflettendo sulla tipologia del paziente che viene per degli impianti. Allora mi chiedevo visto la sua esperienza, lei sicuramente vedrà più persone con queste problematiche. C'è il soggetto che dice basta non voglio più i miei denti, via tutto e faccio l'impianto o cercano sempre di salvaguardare in qualche modo. Allora dipende, ci sono dei pazienti in cui a volte arrivano a fare questo, effettivamente questo ragionamento e che chiedono di poter estrarre tutti i denti e sospirli con l'impianto pensando che in questo modo non ci devo più pensare. Potrebbe essere un'idea. Che può essere a volte una soluzione, non una soluzione però un'idea. Come dicevo prima non è ovviamente la situazione in cui ci si va a trovare perché anche gli impianti richiedono una cura. Ci sono delle situazioni in cui oggettivamente è più semplice per il paziente eseguire le estrazioni degli elementi che magari sono cariati e rovinati rimanenti e sostituirli con un impianto per avere una migliore prognosi nel tempo, cioè per potergli garantire un miglior risultato. Perché come dicevamo a volte non sempre il dente cariato può essere ricostruito e in quel caso fare dei tentativi di ricostruzione a volte non garantiscono una prognosi positiva nel tempo del paziente che magari dopo un anno, un anno e mezzo si ritrova nuovamente ad avere delle problematiche o necessità delle nuove cure. Quindi diciamo che abbiamo entrambe un po' le situazioni. Mentre dall'altra parte ci sono anche pazienti che inconsapevoli di quello che siano gli impianti o spaventati dall'idea di un intervento chirurgico, quando arrivano sulla poltrona fanno giustamente moltissime domande perché preferirebbero non sottoporsi e salvare tutti i denti e loro a tutti i costi ovviamente. Però una volta spiegato quali sono le diverse possibilità, spiegato nel dettaglio il tipo di intervento, che cosa prevede, quali sono tutte le fasi post-operatorie, si forniscono al paziente tutte le armi per capire quello che andrà a effettuare e poter scegliere ovviamente. Anche perché giustamente insomma uno dice vai vado dal dentista, in realtà qua parliamo di un vero e proprio intervento chirurgico perché insomma bisogna intervenire in un modo abbastanza importante. È doloroso? In realtà io dico sempre è come un'estrazione, ovviamente cominciavamo un intervento chirurgico pertanto pensiamo anche al semplice intervento di appendicite ad un decorso post-operatorio che però dove vengano seguite tutte quelle che sono le istruzioni post-operatorie come prendere i farmaci nelle giuste tempistiche, siano gli essi antinfiammatori o eventualmente gli antibiotici, mantenere una buona igiene permette di poter tenere in realtà il dolore sotto controllo. Può esserci dei lievi gonfiori o un pochettino di bruciore eventualmente nella zona dove è stato posizionato l'impianto ma non parliamo di dolori forti o comunque non controllabili. Senta, qua stiamo vedendo la regia ha proposto un prima e dopo questo, il lavoro all'inizio è quella la parte finale? Esattamente, il primo in questo caso vediamo i quattro impianti posizionati nella gengiva e il dopo è nel momento in cui vengono ancorati i denti, la protesi agli impianti, in questo caso stiamo parlando di un'arcata inferiore su quattro impianti, esattamente. Non ci sono problemi di rigetto della vite? Ormai si è arrivati a un punto dove... Si è arrivati al punto in cui in realtà gli impianti hanno un successo altissimo, si parla di un mantenimento dell'impianto superiore al 98%, quindi in medicina è molto alto come percentuale assolutamente. Stavo pensando quei poveracci, quel 2% di sfortunati, cosa... No, in quel caso si può estrarre l'impianto nel caso in cui non ci sia stata un'integrazione dello stesso all'interno dell'osso, si deve attendere la guarigione dell'osso e successivamente l'impianto può essere riposizionato. Non è detto che se un impianto è fallito o non si è integrato, allora il paziente non sia idoneo a ricevere gli impianti, assolutamente. Ecco, qua stiamo vedendo un altro prima e dopo, il che mi fa pensare che dunque il soggetto abbia fatto un intervento con degli impianti, si riesce quindi anche a fare dei lavori anche su delle gengive, mi appaiono abbastanza martoriate quelle gengive lì, ma... Allora, nel primo caso in realtà il paziente ha già una protesina che infatti nella seconda immagine, i quattro denti superiori della prima immagine e la differenza di colore rosa tra la parte dietro e la parte davanti, tant'è che nella seconda immagine il paziente è senza la protesi mobile, senza quello che è chiamato scheletrato, probabilmente il paziente era affetto da parodontite con magari dei denti mobili e cariati che sono stati quindi estratti, poiché ritenuti non più recuperabili e entrambe le arcate sono state sostituite con degli impianti e una protesi agganciata, ancorata agli impianti. Beh qui, insomma, il sorriso cambia e migliora notevolmente. Certo, ovviamente laddove... Tutto bello bianco, tutto uguale, tutto preciso. Ovviamente laddove si vanno a sostituire tutti quanti gli elementi, anche dal punto di vista estetico per quello che è l'odonto tecnico, è più semplice andare a ridare un'estetica perché lavora su una tela bianca completamente, ovviamente ci sono dei parametri da dover mantenere, quindi la curva del sorriso, la dimensione dei denti, quelli sono dati dalla fisionomia del paziente, però il colore piuttosto che la posizione dei denti e la curva possono essere modificati più facilmente dall'odonto tecnico che non deve adattarsi agli elementi già presenti in bocca o ancora presenti, esatto. Quando intende adattarsi, insomma io le volevo fare quest'altra domanda, perché qui abbiamo visto un bel impianto tutto nuovo, tutto bello, ecco se si dovesse mettere un impianto con un solo elemento, un solo dente, non va a contrastare con gli altri denti che sono un po' più malandati? No, assolutamente, perché nel momento in cui si vada a sostituire un dente singolo funziona come se fosse una capsula singola su un dente e quindi sia il colore che la forma vengono fatti in base e scelte in base ai denti già presenti in bocca che siano in armonia ovviamente. perché sennò si perderebbe quello che è l'effetto naturale dei materiali che ad oggi abbiamo, utilizziamo per ricostruire gli elementi dentali. Quindi ecco, ho parlato di armonia, quindi insomma non si nota la differenza tra il vecchio e il nuovo, diciamo, ma anche per le persone che magari sono un po' intimorite, che hanno solo da fare un impianto, insomma si può fare e non va a stravolgere. No, perché comunque la parte argentata metallica della vita è sotto la gengive, quindi esteticamente non si vede. La parte esterna ha la forma del dente e il colore può essere appunto scelto e modificato sulla base del colore dei propri denti presenti, c'è proprio una scala colori a cui fa riferimento. Si avvicinano questi piccoli lamine di resina colorata al dente, si sceglie quello più simile al dente del paziente e lo stesso colore viene dato al tecnico in modo tale che possa andare a lavorare sulla stessa tonalità. Quella che vediamo in regia è la scala di colore, si parte dalla 1 che è il colore più chiaro, dalla 4 un pochino più scuro, il B, A, B, C e D cambia lì il tono, si parla di più giallo, più bianco, più grigio, più rosa, ma poi queste sono... una colore... dovremmo prenderla in quella scala di... Esattamente, è un colore scuro. Abbiamo una telefonata, sentiamo che è con noi in linea. Pronto? Pronto? Sì, buongiorno, come si chiama? Buongiorno, mi chiamo Milena e vorrevo sapere il prezzo più o meno di un impianto del genere. Non so se possiamo proprio fare questioni di prezzi, però. Esatto, i prezzi sono variabili in base al numero di impianti, alla necessità di dover aggiungere osso o meno e al materiale che si sceglie poi per la corona sopra, se si sceglie una resina o piuttosto che una ceramica o una zirconia. Indicativamente i prezzi vanno dal 1800-2000 euro all'impianto singolo a salire, se poi il numero di impianti ovviamente aumenta. Nei lavori più complessi, come possono essere appunto le riabilitazioni con quattro impianti e una capsula, ovviamente non è che il costo è di 2000 euro a elemento. Certo, ok. Va bene, allora ringraziamo la nostra telespettatrice, insomma il prezzo è quello. D'altra parte insomma non è neanche uno parlato. Tipo è un prezzo in generale, non è un prezzo specifico ovviamente. È una media che c'è più o meno tra quelle che possono essere i prezzi, anche perché come dicevo le variabili sono davvero tanti. Certo, poi insomma noi parliamo genericamente di viti, non vorrei passasse il messaggio, va bene, la vita è inferramenta dove... Cioè sono anche insomma degli elementi che nell'organismo si vanno a implementare, non sono nocivi? No, 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 sono assolutamente, è un titanio che è sterile, ovviamente l'impianto viene prelevato da una confezione sterile che ha un suo numero di riferimento e che viene poi consegnato ovviamente al paziente, esattamente come fosse la protesi d'anca o la protesi al seno che hanno, come dicevamo, dei riferimenti che per legge devono essere consegnati al paziente e che in caso di qualsiasi problematica si può risalire al tipo di trattamento che è stato eseguito sull'impianto e sul paziente. Quindi sono poi i presidi medici assolutamente, non sono oggetti qualunque. Certo, poi insomma è brutto dirlo, la qualità, ahimè, ha un costo che insomma non si può... Ci sono più di 400 aziende che fanno impianti, quindi tra ognuna ne fanno... Quindi con i suoi materiali, con le sue cose, con... Quindi ci sono qualità di tutti quanti i tipi e i livelli. Allora, la regia, c'è un cartello che mi sventaglia il fatto che c'è un messaggio, eccolo qui, buongiorno, come si toglie una protesi agganciata agli impianti e cementata? Allora, una protesi che viene cementata su degli impianti per essere rimossa, esistono dei martelletti, deve essere rimossa da un dentista, non può essere rimossa a casa nel momento in cui è cementata in maniera definitiva, esistono dei martelletti specifici che possono essere utilizzati per andare a trazionare e quindi rimuovere la protesi. Non è piacevole rimuovere una protesi cementata in maniera definitiva sugli impianti, assolutamente. Nel caso in cui il cemento definitivo non permettesse questa rimozione, quello che può essere eseguito è andare a forare ogni singolo dente su cui c'è l'impianto e andare quindi poi a svitarla, perché fortunatamente bisogna anche dire che anche le protesi cementate hanno una parte avvitata tra il dente e la protesi e quindi si va poi a svitare con dei cacciaviti apposta, le singole viti e si può rimuovere. Quelle sono più o meno le possibilità. Allora, 011 0600 774 il numero per le chiamate, 348 80 42 54 per sms e whatsapp. Mi ha segnato una cosa che volevo commentare con lei, ha detto che gli impianti hanno bisogno di cure. Sì. Cosa consistono? Allora, le stesse cure che abbiamo per i nostri denti richiedono pulizie professionali una volta ogni sei mesi o una volta all'anno e richiedono ovviamente una buona igiene orale a casa che possa essere fatta con spazzolino idropulsore nel caso in cui si abbiano magari delle protesi sui quattro impianti oppure con l'uso di scovolini filo interdentale anche nel caso invece di impianti singoli perché la zona di passaggio tra l'impianto e la corona, comunque quindi laddove della gengiva è fondamentale che resti sempre pulita, priva di placca o tartaro perché altrimenti la gengiva può scollarsi e i batteri passare ovviamente sotto dove c'è la vita. Va bene. Allora, senta, prima la telespettatrice ha chiamato parlando appunto del costo, è stato detto insomma varia da molte cose, ci sono molte variabili tra cui bisogna capire se occorre aggiungere osso o quant'altro ecco, quindi si può aggiungere osso, due a questo punto anche persone che hanno delle gengive, delle bocche un po' malandate e comunque non perdono le speranze perché si può insomma modificare e provare a fare un impianto comunque. Assolutamente, nel senso che gli impianti possono essere posizionati in moltissime situazioni anche laddove l'osso non sia presente è sempre possibile andare a eseguire degli innesti sia sull'arcata superiore che sull'arcata inferiore che ci permetteranno poi di posizionare in una seconda fase successiva l'impianto quindi quello può essere eseguito ed è facilmente valutabile tramite l'esecuzione durante la visita di una TAC in tre dimensioni che ci permette di vedere il volume effettivo e la presenza di osso a livello sia dell'arcata superiore che inferiore quindi in quell'occasione si può già sapere se sarà necessario andare a posizionare un innesto osseo. Allora, intanto abbiamo un messaggio, dottoressa Carpegni, andiamo a leggerlo. Buongiorno, per un impianto di quattro perni arcata superiore quanto è la tempistica del lavoro finito? Grazie. Allora, questi tipi di interventi, che è l'intervento appunto all on for con quattro impianti che vengono posizionati nell'arcata superiore o inferiore che sia sono interventi che si eseguono in giornata. Al mattino il paziente arriva in studio, viene eseguita l'anestesia, vengono eseguite le estrazioni laddove necessario, posizionati gli impianti e si prende subito al termine dell'intervento già l'impronta per quella che sarà la protesi in resina successiva che se si parla di un'arcata sola, quindi solo la superiore, già alla sera viene consegnata al paziente quindi il paziente alla sera può tornare a mangiare normalmente, un minimo di limitazioni ai primi giorni, sui cibi un pochino più morbidi, se no c'è stato un intervento chirurgico ma dal punto di vista estetico che è funzionale, già alla sera il paziente esce con quei denti. Ah quindi in un 24 ore via? Sì, assolutamente. Non c'è dolore, non c'è il rischio che magari balli perché insomma... No, perché gli impianti vengono ancorati, nel senso che vengono posizionati nell'osso e i denti soprastanti sono uniti da una barra che viene avvitata agli impianti quindi risulta essere molto stabile per di più appoggiandosi sulla gengiva fa sì che ci sia un minor sanguinamento perché non ha uno spazio aperto e allo stesso tempo la gengiva guarisce intorno ai denti che ho posizionato permettendo quindi anche una migliore resa estetica perché va a guarire intorno alla forma che io vado a dare ai denti. Allora... In questa immagine si vediamo degli impianti zigomatici che sono laddove non ci sia osso, è una delle soluzioni in cui laddove non ci sia osso nell'arcata superiore vengono posizionati degli impianti più lunghi che sono quelli angolati che si vedono laterale a livello dell'osso zigomatico. Infatti la parte avvitata è solo la parte che vediamo al fondo tutto il resto dell'impianto, sempre in titanio, è liscio e successivamente vengono avvitati i denti su questa tipologia di impianto. Questo è sempre per tenere insomma tutta l'arcata superiore. Assolutamente sì. I due impianti finali sono solo un pochino più lunghi. Ecco, ecco, tra l'altro qual è la lunghezza? Cioè, beh, qua subito mi smentisce perché vedo subito... Variabile, infatti. ...la dimensione è diversa, però c'è una misura standard? Non ci sono misure, cioè ci sono delle misure standard nel senso che tendenzialmente le lunghezze diametri sono anche nelle diverse case, sono sempre quelle. Però variano in realtà in base al numero di impianti che devo posizionare, allo spazio che ho tra un dente o tra gli impianti e al quantitativo d'osso che ho. Quindi ci sono degli impianti più lunghi e più stretti come degli impianti più corti e un pochino più larghi. Ovviamente, appunto, se l'impianto è un po' più stretto dovrò scegliere un impianto più lungo per avere una maggiore ritenzione, superficie di ritenzione dentro l'osso mentre impianti un pochettino più grandi dal punto di vista della circonferenza posso anche sceglierli un po' più corti, effettivamente perché la ritenzione mi sarà data poi dalla circonferenza dell'impianto. Però ci sono dei diametri tendenzialmente standard come vediamo il 3.8, il 4, il 5, il 2.3 che sono la circonferenza, quindi si parla di millimetri dell'impianto e le lunghezze poi vanno 8,5, sono 8,5, 10, 11,5 fino a 15. Quindi sono misure standard adesso che ci sono sempre quell'abbinamento però ho tante scelte che posso effettuare in base al paziente per quello si dice sempre che sono tutte soluzioni personalizzate perché ogni paziente è diverso e abbiamo la possibilità di scegliere quello che è più indicato per lui. Ecco, con la panoramica quindi si va a vedere cosa c'è di lunghezza? Si va a fare uno studio, sia con la panoramica che con la TAC delle gengive, dell'osso? Si fa a fare lo studio dell'osso, della quantità d'osso presente e si vanno proprio tramite la TAC che è tridimensionale si può fare la simulazione di posizionamento dell'impianto in tre dimensioni le case al giorno d'oggi forniscono a questi software presenti nei programmi delle TAC la possibilità di avere già l'immagine dell'impianto in tre dimensioni che può essere simulata la posizione così che io possa dire voglio mettere, come vediamo per esempio appunto adesso nell'immagine che ci fornisce la regia io dalle immagini vedo le tre proiezioni dall'alto, dal basso e laterale dell'osso del paziente dove devo mettere l'impianto quelle righine gialle sono la simulazione del volume che io devo andare a occupare vediamo quella in basso a destra per esempio quel cerchio mi dà la circonferenza che ho totale, il cerchio più grande e invece la circonferenza del mio impianto, quello più piccolino io tramite questa simulazione posso sapere se mettendo l'impianto in quella posizione lì ho sufficiente osso che lo circonda e che quindi possa permettermi una buona integrazione e posso anche andare a studiare l'inclinazione con cui posizionare l'impianto tanto che in interventi magari molto complessi esiste la possibilità di fare una chirurgia guidata si chiama, cioè tramite queste simulazioni io mi posiziono già gli impianti nella loro posizione ideale creo una mascherina come fosse il bite per i pazienti quello che stringono di notte che sia con un appoggio sulle gengive già con i fori dove posizionare gli impianti e quindi il giorno dell'intervento avrò già una mia guida che mi permetterà di posizionare gli impianti nella posizione corretta anche perché insomma bisogna valutare anche lo spessore non che si pormi, che ne so, una sorta di scalino tra la gengiva e il dente sì, più che altro perché lo spessore dell'osso è quello che mi fa dire la circonferenza che devo andare a mettere perché se no ovviamente l'impianto non è circondato a 360 gradi da osso che è la cosa fondamentale una curiosità dottoressa, ho visto lì una panoramica ci sono dei denti che sono più bianchi rispetto agli altri ecco, perché la radiografia fa... lì non credo ci siano impianti credo sia solo della pasta... ecco qua, vediamo una tipo questa foto qua se la regia la mette... lì non penso che ci siano impianti forse però sono trattati i denti e si vede comunque perché sì, si vede, nelle radiografie noi abbiamo la possibilità di vedere il tipo, non il tipo di trattamento però se il dente ha delle capsule o delle otturazioni o al contrario delle carie rispetto ad avere un dente sano in base alla scala di grigio che si vede perché i raggi X quando vanno a colpire, attraversano il dente colpiscono la pellicola radiografica dove non riescono a passare perché ho qualcosa di più denso come per esempio magari il metallo mi ridanno un'immagine bianca invece dove passano completamente... dove riescono a passare per esempio dove ho l'aria o un vuoto mi danno un'immagine... un'immagine nera quindi tanto più è bianca l'immagine che noi vediamo più spessore ho in quella zona lì oppure più materiale ho in quella zona lì tanto più è chiara, meno materiale oppure per esempio posso avere una carie mi segnala la presenza di una carie conoscendo qual è il grigio corretto ovviamente da vedere ecco, va bene allora noi proseguiamo senta, dicevamo degli impianti abbiamo capito che insomma ormai si velocizza un po' tutto quindi si riescono a fare in tempi brevi nel caso di, ahimè, di problemi... è la dima chirurgica di cui parlavamo prima per la chirurgia guidata viene posizionata sulla gengiva dove ci sono quei fori e la zona in cui vengono posizionati gli impianti e si può quindi andare a posizionarli ed eseguire l'intervento in maniera più rapida e con una migliore prognosi ah, quindi lì c'è quei tre buchi... e dove andranno gli impianti ah ecco, da lì sapete dove forare per capirci anche con i nostri telespettatori abbiamo una telefonata, mi pare di capire sentiamo che è con noi in linea pronto? buongiorno, senti che io sto guardando... si, la trasmissione, come si chiama? buongiorno, nome di battesimo ci serve solo Salvatore Loggiudice Salvatore, da dove chiama? da Corugliana, provincia di Cosenza in provincia di Cosenza, allora benvenuto faccia pure la domanda alla dottoressa che la sta ascoltando buongiorno buongiorno volevo sapere un po' in merito com'è che funziona come funziona l'impianto singolo o quello con i quattro impianti? il singolo sarebbe una dentiera normale no, il singolo è un impianto solo che sostituisce un dente quello con i quattro impianti sostituisce tutti quanti i denti o sopra o sotto ah, ho capito è più lei ha cosa pensava? cosa pensava di fare? si pensava di fare una dentiera mobile la dentiera mobile è una cosa diversa non prevede non prevede gli impianti ci sono delle situazioni in cui le dentiere mobili possono essere agganciate eventualmente a degli impianti come abbiamo visto all'inizio con i due impianti singoli sui quali vengono posizionati come fossero dei bottoni dei poussoir a forma sferica a forma di balls sul quale la protesi può essere agganciata rimane una protesi mobile ma è un pochino più stabile rispetto a quando non si hanno degli impianti quella è una soluzione che può essere eseguita con le protesi mobile ma diciamo e quando questa diciamo quella completa quanto costa? il costo poi di una protesi quello dipende appunto se si fa la protesi singola o la protesi mobile o se viene ancorata poi con gli impianti e lì bisogna valutare un attimino il tipo di protesi ovviamente come possibilità come dicevo ci sono dei costi generali ma poi si valuta sempre insieme la soluzione finale poi giustamente allora intanto ringraziamo il nostro telespettatore per aver chiamato qua non facciamo una trasmissione per costi e prezzi che insomma è relativo noi volevamo portare a conoscenza del fatto che ci sono diverse possibilità per sistemare la propria bocca oggi in combinazione parliamo di impianti dentali il signore forse era intenzionato a un altro tipo di trattamento però insomma è giusto fornire un po' tutti i quadri generali di cosa succede abbiamo una telefonata? Sì, pronto? Pronto? Sì, buongiorno, come si chiama? Ah, buongiorno sono Giuseppe e chiamo da Torino e voglio sapere un'arcata superiore con quattro impianti più o meno la tempistica? Allora, la tempistica come dicevamo all'inizio come dicevamo prima è una giornata nel senso che al mattino vengono posizionati gli impianti e alla sera viene avvitata e consegnata la protesi superiore che assolutamente corrisponde a 12 denti già al paziente ed è questa una protesi in resina che è una protesi provvisoria e poi successivamente a distanza di un paio di mesi può essere poi eventualmente sostituita con una protesi o in metallo ceramica o in zirconia ceramica Allora ringraziamo il nostro telespettatore faccio fatica dottoressa a capire probabilmente anche i nostri telespettatori allora vediamo di di capire un attimo la tempistica sì nel senso che ecco in 24 ore mettete i quattro impianti ma come deve essere il paziente faccio un esempio arrivo io con i denti li ho tutti qua prima che li togliete ci vogliono 4-5 ore e non finiamo la giornata insomma come deve presentarsi un paziente no ovviamente in una situazione in cui i denti ci sono tutti e sono sani non è la soluzione in cui andare a fare un intervento di quel tipo no però insomma mettiamo che sono un po' malandati generalmente questi tipi di interventi vengono eseguiti o in pazienti che sono completamente dentuli quindi non hanno denti e sono dei portatori magari di protesi mobili protesi totali oppure in pazienti a cui rimangono pochi denti loro in bocca e hanno magari uno scheletrato e quindi la stessa mattina vengono eseguite anche le estrazioni per quello dicevo che non c'è una preparazione effettiva prima al di fuori di quello che può essere una detartrasi un'igiene professionale per dare uno stato di salute delle gengive tutte le estrazioni necessarie vengono eseguite il giorno dell'intervento però non richiedono ovviamente così non aumentano di così tanto il tempo dell'intervento stesso perché generalmente sono denti che o sono molto rovinati o sono denti che magari non hanno tanto osso intorno e quindi si muovono già da soli pertanto non richiedono tempi di estrazione lunghi ok quindi insomma sono dei pazienti che hanno insomma necessità non hanno denti hanno necessità di riavere un sorriso allora quello anche perché i propri denti sono ovviamente sempre preferibili quando recuperabili a un impianto quindi chi ha una dentatura sana e ha tutti i denti non è il paziente target per questo tipo di intervento e non gli si deve essere proposto assolutamente ma bene volevo tornare sul nostro telespettatore di cosenza che chiedeva prezzi al di là del fatto che appunto in questa trasmissione non ne vengono forniti anche perché poi così si può parlare dell'aria fritta non avendo né davanti una persona nulla c'è anche da tenere il fatto che probabilmente cosenza rispetto a Torino i prezzi possono anche essere diversi quindi insomma per il nostro telespettatore che necessita magari di capire cosa fare della propria bocca forse conviene andare da un dentista di cosenza chiaramente e valutare un attimo la situazione assolutamente dunque ecco qui in questo caso le gengive erano non sanissime perché sono molto rosse nella immagine iniziale e sono stati estratti quelli che erano i denti rimanenti nella zona frontale posizionati gli impianti e la la protesi che vediamo qui è già una protesi più definitiva rispetto a quella quella iniziale però poi viene sì in realtà la presenza o meno di gengiva intorno sopra al dente è data da una questione di estetica viene tutto quanto studiato precedentemente perché quando il paziente sorride deve scoprirsi meno rosa possibile quindi se l'osso si è ritirato magari particolarmente ma non è ancora sufficienza per cui non devo fare un innesto posso aiutarmi a non fare dei denti molto molto lunghi aggiungendo ovviamente la parte di gengiva allora andiamo con una telefonata al dottoressa Carpegna sentiamo che è con noi pronto 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 eccoci qua buongiorno come si chiama io mi chiamo Domenico allora Domenico da dove telefona Torino da Torino allora faccio pure la domanda Domenico non ho capito faccio la domanda che la stiamo ascoltando la sta ascoltando la dottoressa la domanda io nel masticare mi fanno male le mascelle c'è un motivo? allora il dolore lo sente a livello della guancia o più indietro verso le orecchie? la guancia tutte le guance le gengiva mi fanno male e non riesco a masticare ovviamente così al telefono è difficile dirle quella che può essere la causa generalmente le possibilità sono le guance le guance può essere un problema muscolare eventualmente dovuto a bruxismo quindi un strofinamento dei denti la notte o anche di giorno nei momenti di tensione o magari a un serramento cioè alla tensione allo stringere molto molto forte i denti sempre nei momenti un pochino più di tensione questo può portare a volte a una contrazione muscolare dei muscoli masticatori che possono causare poi dolore e tensione durante la la masticazione quello è quello che può può essere eventualmente se il dolore lo sente proprio riferito alla guancia è durante una fase masticatoria quindi durante un momento in cui i muscoli sono sottoposti a una a una contrazione continua e quindi un affaticamento tutto chiaro Domenico? sì ok va bene speriamo di essere stato di aiuto ecco bruxismo peraltro come faccio a accorgermi di essere di avere il bruxismo i primi sintomi sono i dolori a livello masticatorio come diceva il paziente a livello della guancia o eventualmente proprio dell'articolazione quindi nella zona dell'orecchio qua davanti possono essere i primi sintomi nel lungo termine l'usura dei denti quindi i denti si consumano e si formano proprio delle si chiamano faccette di usura sono delle zone più piatte sul dente consumate che ci fanno capire che in quella zona lì c'è stato uno sfregamento e un'abrasione va bene senta dottore siamo così agli sgoccioli di questo nostro appuntamento con l'immagine dell'usura in questo caso sono i denti consumati sono proprio appiattiti esatto si creano proprio queste fossette all'interno delle scuspidi dove il dente è più consumato va bene chissà allora poi parleremo anche perché lì bisognerà fare anche qualche altro il trattamento in questo caso cambia non sempre in quei casi è necessario un impianto anzi in quei casi il dente si cerca di recuperare e mantenere il più possibile senta mi chiedevo gli impianti ne abbiamo parlato abbiamo sentito i nostri telespettatori che magari si aspettavano invece delle protesi delle altre cose allora mi chiedevo alternative ce ne sono dal suo punto di vista dal insomma da quello che può vedere lei in studio c'è più gente proiettata a un impianto o a una protesi al giorno d'oggi sono più proiettati verso gli impianti ed è anche quello che personalmente consiglio maggiormente perché la possibilità di avere qualcosa di fisso in bocca e che ci evita di trovarsi nella situazione come nell'immagine ovviamente ironica proposta dalla regia sono ovviamente le soluzioni ideali il paziente recupera una capacità masticatoria con degli impianti quindi con una soluzione fissa quasi pari a un 80-90% rispetto ai denti naturali invece con una protesi mobile parliamo di un 20-25% quindi è una capacità masticatoria davvero limitante anche per quello che sono poi la quotidianità e l'alimentazione può portare anche poi a magari problemi di gestione o altro quindi assolutamente preferibile tra le opzioni l'implantologia allora siamo al termine del nostro appuntamento io ringrazio per essere stata qui al mio fianco la dottoressa Giorgia Carpegna grazie dottoressa ricordiamolo odontoiatra in Torino e con questo io mi congedo anche dai nostri telespettatori ci vediamo nei nostri prossimi appuntamenti dunque arrivederci a presto grazie a tutti